Il Mediterraneo è un concetto molto antico, ma cercherò di dimostrare come sia anche in qualche forma il nostro futuro. L'evoluzione del Mediterraneo come modello territoriale è molto complessa, ha preceduto la forma Stato, l'ha inventata ma se ne è servita poco e oggi torna prepotentemente alla ribalta, paradossalmente perché esiste qualcosa che noi sbrigativamente chiamiamo globalizzazione e che coincidendo con la crisi del modello spaziale rilancia prepotentemente il modello Mediterraneo. Il Mediterraneo che nell'antichità era l'unico mondo possibile ma che in epoca moderna è stato completamente scavalcato dalla sua creatura, quello dello Stato continentale, territoriale e centralizzato, oggi riacquista vigore, riacquista importanza, riacquista centralità non soltanto dal punto di vista dei traffici e delle connessioni, ma dal punto di vista del modello culturale a cui esso, nonostante i rivolgimenti della storia, ha nel corso dei secoli continuato ad obbedire. Grazie. 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 Grazie.